Amici sportivi e soprattutto amici di Manfredonia TV, benvenuti a questo quattordicesimo appuntamento con il punto, il rotocalco sportivo a 360 gradi che conduco io in solitario Antonio Castriotta. Ecco siamo qui per parlare dello sport che ha caratterizzato l'ultima domenica sportiva, quella di ieri ovviamente, a partire dal calcio, poi calcio a 5, basket e infine volley. Partiamo ovviamente dal calcio a 11 e dal campionato regionale di promozione Girone A, ieri si è disputata la diciottesima giornata, purtroppo il Manfredonia ha subito una sconfitta, la prima sconfitta della stagione in trasferta contro il Vigor Bitritto. Ma prima di addentrarci nella disamina di questa partita diamo lettura della diciottesima giornata del campionato regionale di promozione Girone A, dei risultati. Borgo Rosso, Molfetta, Canosa, 2-0, Football Club Capulso, Ass et Labor Grottaglie, 0-4, Castellaneta Calcio 1962, Rinascita Rutiglianese, 4-1, Don Uva Calcio 1971, Nuova Spinazzola, 1-1, Noi Cataro Calcio, Sporting Apricena, 5-1, United Sly, Real City, 5-0, Ginosa, Norva Conversano, 1-0, Vigor Bitritto, Manfredonia Calcio 1932, 2-1. Per una classifica che vede al primo posto a pari punti a quota 47 il Manfredonia Calcio 1932 e lo United Sly, a quota 39 il Vigor Bitritto, Real City 33, Ginosa 31, Castellaneta Calcio 1962, Borgo Rosso Molfetta 28, Nuova Spinazzola 24, Ass et Labor Grottaglie 23, Canosa 22, Rinascita Rutiglianese 20, Noi Cataro Calcio 19, Don Uva Calcio 1971, 18, Norba Conversano 17, Sporting Apricena 9, Football Club Capulso, Panalino di coda a 0 punti. Ecco, torniamo a parlare della partita, della delicata trasferta del Manfredonia Calcio sul campo del Vigor Bitritto, la partita è terminata con una sconfitta, la prima della stagione del Manfredonia Calcio per due reti ad uno, una sconfitta che fa male al Manfredonia Calcio, anche se va evidenziato in effetti che il Manfredonia Calcio si è presentato a Bitritto con una formazione molto ma molto rimaneggiata a causa della influenza stagionale che ha decimato la nostra formazione. Infatti, gli undici che sono scesi in campo, ve li leggo, Murgillo tra i pali, De Filippo, Roberto, Mastropasqua, Telera, Sementino, Trotta, Cicerelli, Terrone, Stoppiello e Prota. Poi a disposizione vi erano Clemente, Eletto, Esposto, Armento, Olivieri, Grumo e Fania. Quindi, a parte la defezione di Basta che purtroppo ha un problema al ginocchio che speriamo si possa risolvere quanto prima, ma proprio in mattinata non si sono potuti unire al gruppo Laboragine, Peres e Di Noia, tutti e tre purtroppo colpiti all'ultimo momento dall'influenza. E quindi, purtroppo Agnelli ha dovuto fare di necessità virtù, dalla lettura della formazione degli undici titolari che sono scesi in campo, si comprende come in effetti la squadra abbia perso tre perni fondamentali della formazione. Se fosse scesa in campo con questi tre titolari, quasi certamente la partita avrebbe avuto un esito differente a quello che poi è stato. Quindi il Manfredonia era comunque passato in vantaggio dopo cinque minuti con Nando Terrone, che ha segnato l'esordio con un non-goal. Sembrava che la partita potesse mettersi in discesa per il Manfredonia Calcio 1932, che ha contenuto benissimo gli avversari e purtroppo poi così non è stato, poiché nei minuti finali della gara, negli ultimi dieci minuti, il Bitritto è riuscito a pareggiare con Rana e poi c'è stato il gol nel finale, sempre del solito, Rana per il 2-1, che ha condannato il Manfredonia a questa sconfitta. Abbiamo avuto anche una sfortuna, va evidenziato un altro dato, ossia Pasquale Trotta, il nostro bomber, che io ritengo sia un giocatore che in campo valga per tre giocatori, per l'apporto tecnico importante che conferisce al reparto offensivo del Manfredonia Calcio 1932, purtroppo nei minuti finali del primo tempo ha subito un infortunio muscolare che ha costretto il mister Agnelli a sostituirlo ovviamente. Bene, abbiamo perso una pedina importante sul fronte offensivo del Manfredonia Calcio, uno che avrebbe certamente potuto incidere, quindi oltre a quelli che già mancavano, i tre che ho poc'anzi elencato, è venuto a mancare anche Pasquale Trotta, poi c'è stato anche l'infortunio di Roberto Gabriele che ha subito uno colpo alla testa ed è uscito, è stato sostituito con la borsa del ghiaccio in testa e questa è la sconfitta che ha maturato il Manfredonia Calcio 1932. Però sentiamoci i mister Agnelli al teme della gara, mister Agnelli che ha comunque evidenziato una certa delusione per questa prima sconfitta stagionale dopo un percorso eccellente e strepitoso della Manfredonia Calcio 1932 che nel 2019 non aveva realizzato alcuna sconfitta. Nel 2020, prima partita, cioè prima partita, seconda partita del 2020, arriva purtroppo questa sconfitta. Sentiamoci, mister Agnelli. Allora, mister Agnelli, arriva la prima sconfitta di questa stagione, 2-1 contro il Bitritto, una partita difficile per il Manfredonia Calcio, una squadra rimaneggiata ma probabilmente abbiamo rinunciato un po' a giocare. Sì, non abbiamo fatto quello che sappiamo fare sempre, cioè giocare a calcio e purtroppo ci siamo chiusi troppo e abbiamo subito le due reti. Si sta con un rammarico che quattro giocatori, tra cui tre con la febbre e l'influenza, e uno, Pasquale, che dopo dieci minuti fatto male al costato non ha potuto dare un apporto alla squadra. Questo è una grande defezione che ci portiamo purtroppo e il risultato è frutto di anche queste cose. Certamente sì, siamo partiti bene, eravamo passati in vantaggio con Terrone, poi abbiamo subito quasi sempre il Bitritto. C'è stata una tiepida reazione soltanto nei minuti finali, la squadra ha iniziato a giocare, quasi quasi voleva rincorrere il pareggio, ma non c'è riuscita. Sì, abbiamo soltanto cercato di giocare verso la fine, ma è una cosa che dovevo fare prima, me ne assumo la responsabilità io, come ho sempre fatto, quindi cercherò di migliorare sotto questo punto di vista e far migliorare la squadra sotto questo punto di vista. Devo soltanto ringraziare tutta la difesa che ha dato una grandissima mano nel sopportare la squadra, perché siamo veramente una giocata una grande partita. Purtroppo queste situazioni non ci hanno aiutato, oggi è stata veramente una giornata nera, tra infortuni e influenza non è andata bene per noi. Ecco, Rana ha dato prova di tutto il suo valore oggi, quell'attaccante che in tanti si aspettava una manfalone, per carità, Terrone è andato in gol, forse ci avrebbe fatto comodo. Vabbè, secco in secco rimasti possono vincere tutti i campionati, il problema era oggi, giocare oggi la partita. Nando ha disputato una grande prestazione, Gigi lo conosciamo, il suo valore, purtroppo dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare e non dobbiamo adesso ammazzarci, ma pensare a continuare a fare quello che abbiamo fatto prima, ci sta un passo falso. Dobbiamo crescere, rialzarci e migliorare. Grazie mister. Grazie a te. Abbiamo sentito mister Luigi Agnelli, è evidente la delusione che si legge nel volto provato di mister Agnelli al termine della gara con il Bitritto, una sconfitta diciamo che purtroppo è giunta per le numerose defezioni del Manfadonia Calcio, però ho evidenziato comunque l'atteggiamento un po' remissivo del Manfadonia Calcio, non è stato un Manfadonia Calcio che si è espresso diciamo ai livelli ottimali che avevano caratterizzato il percorso di questa squadra durante tutto il 2019, ma purtroppo di fronte avevamo un avversario ostico, il Bitritto, che teneva a far bella figura dinanzi al proprio risicato pubblico, vi erano più tifosi del Manfadonia Calcio in quel di Bitritto, dopo il gol il Manfadonia Calcio ha subito tantissimo, il Bitritto che ha cercato in ogni modo di recuperare, ma siamo riusciti a tenere benissimo il campo, ci siamo difesi, però è chiaro che se poi ti difendi non soltanto durante la prima fazione di gioco dove ci siamo veramente, non abbiamo segnato alcun tir in porta nei confronti del portiere avversario e poi inizia il secondo tempo dove perdi una pedina importante, quello è stato Pasquale Trotta e quindi ci sono stati certamente dei campi, ma nella sostanza non è cambiato nulla per il Manfadonia Calcio nel 1932, loro ci hanno purtroppo costretti nella nostra metà campo, il Manfadonia non è riuscito ad esprimersi nel migliore dei modi, così come ci aveva abituato, non è riuscito a velocizzare l'impostazione dell'azione di gioco, è chiaro che il gol prima o poi arriva, perché la difesa è andata ovviamente sotto pressione. dopo il primo gol abbiamo accennato una tiepida reazione ma non siamo comunque riusciti a superare la nostra metà al campo poi è arrivato il secondo gol che ci ha letteralmente gelati e quindi il Manfadonia non è più riuscito a recuperare il risultato e quindi ad ottenere quantomeno un pareggio una sconfitta che ci purtroppo costringe ad essere a pari punti con lo United Sly in classifica. Uno dei protagonisti di questa partita è andato in gol al suo esordio e Nando Terrone, anche diciamo Nando Terrone ha evidenziato la sua delusione evidenziando in effetti che la squadra deve comunque compiere un salto anche di categoria dal punto di vista mentale perché è vero che l'avversario che si era di fronte, il bitrito è un avversario ostico però abbiamo in qualche modo rinunciato a giocare è vero che vi erano delle defezioni però vi erano anche i sostituti dei titolari qualcosa in più si poteva certamente fare sul campo del bitrito ora però sentiamoci Nando Terrone Nando Terrone, l'esordio con un gol al quinto minuto è un'esordio從ante e aveva lunghezze in pista Nando a parte le assenze è sembrato un manfredonia un po' troppo rinunciatario tu ce l'hai messa tutta in avanti hai cercato comunque di giocare il pallone però è un manfredonia che insomma per certi versi della partita anzi quasi dopo il gol quasi si è limitato a gestire il processo palla però non ha attaccato molto la profondità Sì, sì, in effetti è così, la disamina giusta, non sono nemmeno io, perché comunque eravamo partiti bene, il solito gioco nostro girando palla, però dopo il gol effettivamente abbiamo palla lunga e pedala, ho detto forse la mancanza di qualche grande in mezzo al campo, secondo me si è sentita. Certamente sì, si è fatta sentire la mancanza di laboraggine, il rincalzo di Roberto Perperes, le assenze oggi sono state determinanti, c'è stata una tempida reazione dopo il gol del vantaggio del bitritto, il Matodoni ha cercato un pochettino di pareggiare, purtroppo è stata una reazione tardiva. Sì, ormai la partita è giunta al termine, secondo me dovevamo svegliarci prima più che altro, perché comunque stavamo subendo, dovevamo reagire e riprendere a giocare il calcio nostro, solo che purtroppo è gente da così, non possiamo farci nulla, rimbocchiamoci le maniche e pensiamo già a Canos. Complimenti a Nando Terrone, anche se purtroppo è mancata, il gol ha lasciato il tempo che trova, perché alla fine dei conti la Mafodonia all'esordio di Nando Terrone ha subito questa sconfitta. Nando Terrone si è mosso bene, da grande opportunista è riuscito a segnare al quinto minuto del primo tempo, poi si è dato un grande affare sul reparto offensivo, insieme a Pasquale Trotta, unico terminale offensivo nella seconda fazione di gioco, anche se è entrato l'esterno d'attacco grumo, purtroppo non è stato servito adeguatamente, pochi i palloni che sono pervenuti a Nando Terrone, tante volte si è guadagnato diversi calci di punizione, è riuscito a proteggere il pallone, però purtroppo la sua voglia di fare non è stata premiata con un altro gol, ma lo sapevamo che il campo del Bitrito era un campo difficile, adesso bisogna voltare pagina e pensare già alla partita di domenica prossima contro il Canosa, dove certamente affronteremo un Canosa in voga, un Canosa che al pari del Big Orbitrito, quando affronta la prima della classe, ci mette tutto l'orgoglio per non perdere dinanzi ai propri tifosi, così come poi è accaduto con lo United Sly, il Canosa ha fermato lo United sul risultato di 1-1. E speriamo che il Manfredonia possa quindi fino a domenica prossima recuperare la condizione mentale, soprattutto recuperare fisicamente quei calciatori che ieri non ha potuto schierare, perché evidentemente se vi fosse stata la formazione titolare, l'esito di questa partita sarebbe stato completamente diverso, almeno io penso che sia così. È il momento di dare lettura anche dei risultati del settore giovanile del Manfredonia Calcio e non solo, ma anche dall'Accademia, partendo come al solito dalla Juniores regionale, il Manfredonia Calcio ha battuto il Team Orta Nova per 3 reti a 0 ed è primo in classifica a 29 punti, per quanto concerne gli allievi provinciali, il Manfredonia ha vinto fuori casa per 2-1 contro il Troia, gli giovanissimi regionali del Manfredonia Calcio hanno battuto la Juventus San Michele per 2 reti a 1 ed è a punti 23 in classifica, anche l'Accademia ha vinto fuori casa per 3 reti a 1 contro l'Eagles San Severo ed è a quota 22 punti in classifica. I giovanissimi provinciali hanno vinto 10 a 1. Continuiamo a parlare di calcio, è il momento della Serie D, il Foggia è impattato in un pareggio per 0-0 in quel di Agropoli, un pareggio che fa male al Foggia Calcio, per fortuna il Britonto ha pareggiato fuori casa per 2 reti a 2 contro il Gladiator, un Foggia che ha affrontato l'ultima della classe, era una partita che il Foggia avrebbe dovuto necessariamente vincere, anzi con il concomitante pareggio del Britonto avrebbe recuperato ben due punti al Britonto Calcio, così non è stato, una prestazione molto opaca quella del Foggia Calcio contro l'ultima in classifica, non ha fatto nulla per vincere questa partita, così come è stato evidenziato dal suo mister Renini Corda al teme della cara. Prestazione brillante invece quella dell'audace Cerignola che ha battuto con un punteggio settennistico 6-3 la Fidelis Sandria, non c'è stata partita, l'audace Cerignola ha dimostrato tutta la propria forza, ha chiaramente guadagnato due punti sia sul Foggia che sul Bitondo ed è un cammino positivo quello dell'audace Cerignola, la guida Feola che Tampiano sta risicando delle posizioni di classifica e certamente fino al termine del campionato disputerà quasi certamente i play-off ma probabilmente secondo alcuni potrebbe addirittura anche arrivare primo al termine di questo campionato e vincere il campionato di Serie D che è il progetto di questa società. Passiamo adesso invece a parlare della Sim Manfadonia a calcia 5 che ha pareggiato per due reti a due contro l'Atletico Cassano, una partita brillante quella della Sim Manfadonia a calcia 5 su un lostico e difficile campo dell'Atletico Cassano, all'andata era finita 3-3, ancora un pareggio al ritorno, un pareggio importantissimo per la Sim Manfadonia a calcia 5 per due reti a due, era passato in vantaggio al primo tempo la Sim Manfadonia a calcia 5 con Riondino, poi vi era stato nei primi minuti del secondo tempo vi era stato un 1-2 micidiale dell'Atletico Cassano e poi con il portiere di movimento Ganzetti aveva restabilito il pareggio. E' il caso che, guardiamo gli highlights, a cura di Puglia 5. Chiuso il 2019 in crescendo, Atletico Cassano e Sim Manfadonia cercano risposte importanti nel nuovo anno. Questo derby che apre il girone di ritorno è già un test molto importante. Amici di Puglia 5, buon pomeriggio e benvenuti al palangeliolo di Cassano delle Murge da Davide Menolascina. Tra pochissimo il via alla quattordicesima giornata di Serie a due girone C. Attenzione intanto Perry perde un brutto pallone, allora la palla è buona Perry, Martínez e calcia col destro, c'è la parata di Di Benedetto, conclude verso la porta. Vediamo, arriva il fischio dell'arbitro, Riondino decide di calciare e sorprende Di Benedetto sul primo palo facendo 1-0 per il Manfredonia. Si sposta Sverkowski, c'è anche Alemau pronto a calciare, va col Mancino. Bella giocata di Aguilera, due volte Aguilera dentro per Ganzetti che manda fuori. Non concede il piede Mancino all'avversario che vanno in bucare, poi va a calciare. Grande intervento di Di Benedetto e poi grande anche la scivolata di Fred che muro alla conclusione di Ganzetti. Con la torre, prova da centrarsi, imbucata per Fred che si gira bene, calcia col sinistro, palla sul fondo. La migliore è quarta, torniamo in cronaca però perché il Cassano in contropiede con Tiago. Para col piede Lupinella, venta buona per Tiago che prova la conclusione. Tiro che termina di poco a lato, mette movimento Martínez, Gacu sulla sinistra. Prova a calciare verso la porta, ha una mano, Di Benedetto mette in angolo. Contro due per il Manfredonia, butta Buzzi per Ganzetti. Arriva Crocco, la palla sul palo e poi Svierkowski allontana. Fred porta e tiene palla, poi vada Svierkowski, Lupinella, riesce anche a tenere in campo. Esce fuori dalla sua area, bene Di Benedetto che poi prova anche a ripartire dall'altra parte. Carica il sinistro, palla non lontana dallo specchio della porta. Profondità per Alemao che la pizzica verso Perri, una finta Perri si accentra. Calcia col destro, palla di poco a lato. Fischio dell'arbitro che arriva adesso, palla per Tiago, conclusione. Arriva Alemao che la mette all'incrocio e fa 1-1 per il Cassano al quinto minuto della ripresa. Aguilera verso Crocco, conclusione con il destro, deve allungarsi con la punta delle dita di Benedetto. Perde il pallone con Aguilera che punta la porta e stampa il pallone sul palo. Finta di Manzali che passa su Ganzetti, mette dentro, serie di deviazioni. Poi Lupinella che attacca centralmente, allarga sulla sinistra verso Mice Svierkowski. Dentro da Manzali, chi si chiude il triangolo, calcio a Svierkowski! E porta avanti il Cassano, per la prima volta in questa partita. Il missile di Svierkowski fa 2-1 per la squadra di casa. Martinez ancora Svierkowski, se ne va bene con una finta verso Alemao. Arriva Rimorchiofredo, con un attimo di ritardo, poi Tiago, murato da Crocco, calcio a Svierkowski sul fondo. Butta Buzzi dentro e arriva Ganzetti sul secondo palo, che fa 2-2. Per il Manfredonia! Conclusione di Svierkowski, illusione ottica del gol. La palla però è terminata sull'esterno della rete. Manzali, passaggio un po' troppo corto. Letto da Gaku che prova a calciare verso la porta. Non la trova centralmente. Si va da Svierkowski che non ha spazio per il tiro. C'è Alemao che può calciare con la punta. Conclusione del Cassano, rinvio di Di Benedetto. Suona la sirena, si chiude qui la partita. Finisce 2-2. Un bellissimo Cassano-Manfredonia. Benissimo. Le immagini della partita. Atletico Cassano-Sim-Manfredonia-Caccia5 sono eloquenti. Una grande prestazione della Sim-Manfredonia-Caccia5 guida Massimiliano Monsignori, che ha inserito il quinto di movimento, consentendo alla Sim-Manfredonia-Caccia5 di raggiungere il pareggio per due reti a due con Gazzetti. Ma va evidenziato comunque che la Sim ha avuto la possibilità al primo tempo, nei secondi finali, di passare in vantaggio sul 2-0 con un legno. Purtroppo il pallone non si è insaccato in porta. Ed anche quando si era sul 2-2 a porta vuota, Gaku ha tirato con il quinto di movimento dell'Atletico Cassano e per poco non segnava il gol della vittoria. Complimenti a questa società, complimenti alla squadra, complimenti a Massimiliano Monsignori. Il percorso con i due nuovi innesti è certamente molto, ma molto positivo e certamente ci farà divertire la Sim-Manfredonia-Caccia5. È il momento del basket. La SSD Angel Basket purtroppo ha rimediato un'altra sconfitta in casa contro lo Stuni Basket per 78-72. Ha vinto ovviamente lo Stuni. Al primo quarto la SSD Basket era in vantaggio di 5 punti nei confronti dello Stuni. Poi il secondo, terzo e quarto quarto sempre in svantaggio. Tanta imprecisione sotto canestro da parte dei cestisti della SSD Basket. Ma va comunque evidenziato che questa squadra necessita certamente di rinforzi per il proseguo del proprio campionato. È un organico purtroppo strimizzito, tra virgolette. Mancano degli elementi che possono incrementare la qualità tecnica di questa squadra. Nulla è ancora compromesso. Speriamo che la società possa in qualche modo rinforzare l'organico per un proseguo più tranquillo del campionato. Perché le partite nella seconda parte della stagione si fanno difficili. La SSD Angel Basket è ferma a quota 8 punti in classifica, in zona play-out. Quindi occorre un salto di qualità che può verificarsi soltanto se approdano in questa società altri cestisti, almeno un paio di elementi, che diano maggiore qualità alla formazione. Passiamo adesso a parlare del volley. La Webbing Volley Manfredonia ha ottenuto una importante vittoria per 3 set a 1 contro la Don Milani ed è seconda in classifica a 23 punti ad un solo punto dalla BCC New Water Mater a quota 24. Quindi ci sono tutti i presupposti per la vittoria finale del campionato di Serie D da parte del volley maschile di Manfredonia. Differentemente per quanto concenne la prima divisione volley femminile, la Webbing Volley di Manfredonia ha subito una sconfitta contro la GS intrepida volley per 3 set a 0. Benissimo, come al solito siamo arrivati anche questa volta al termine della nostra puntata quattordicesima puntata del punto. non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo appuntamento con il punto. Ciao!